Il calcio dopo tre scudetti vinti sembra proprio finita l'avventura di Mancini all'Inter. E' in arrivo il portoghese Murigno, il servizio di Francesco Rocchi. 20 minuti per sentirsi dire che è finita. Tanto è bastato a Massimo Moratti per comunicare a Roberto Mancini che la panchina dell'Inter non sarà più sua. Il Mancio, arrivato in via Cerbelloni a Milano, residenza storica della famiglia Moratti, intorno alle 5 del pomeriggio, abbozza un sorriso alle telecamere e convinto di poter rimanere. Ma bastano pochi minuti sedersi di fronte a un Moratti deciso a cacciarlo e il tecnico capisce di essere ormai un ex. Il presidente è duro, è inutile parlarsi, la decisione è presa. L'offerta come buona uscita è pari a un anno e mezzo di contratto dei quattro che legano il Mancio ancora all'Inter. Una cifra, per essere più chiari, vicina agli 8 milioni di euro. Il tecnico di Iesi non ci sta, si alza e sbatte la porta di casa Inter. Tre scudetti non sono bastati, Moratti vuole Murigno, è convinto che il futuro dell'Inter passerà dalle sue mani. Per il tecnico portoghese è pronto un ingaggio faraonico, un triennale da 9 milioni a stagione. Non resta che dire, amala, pazza Inter, amala.